Dalle bombe al museo, 1942-1959, la rinascita dell'arte moderna. Direttrice, che tipo di mostra è? Come è nata l'idea? L'idea è nata in una maniera duplice. Da un lato, arrivando qui all'inizio dell'anno scorso come nuovo direttore, ho visto che nei nostri storage del museo c'erano delle opere ancora danneggiate dalla guerra. L'altra questione che viviamo tutti i giorni, attraverso i telegiornali, attraverso i media, viviamo la distruzione anche di opere d'arte e di architettura importantissimi nel Medio Oriente, in Siria, Aleppo, Palmira, per non parlare in Afghanistan della distruzione dei Buddha di Bamiyan. E quindi ho pensato che fosse importantissimo anche per capire, per imparare a capire che cosa succede nel mondo, capirlo attraverso una mostra nostra e attraverso il ricordo di quello che era stata la più grande distruzione di Torino nel XX secolo. E quindi è una mostra che nasce in questa maniera. La GAM è stata tristemente protagonista in questo periodo storico. Sì, nel corso di un bombardamento del novembre 1942 viene gravemente danneggiato il padiglione Calderini che ospitava le collezioni civiche dal 1895. E quindi, tristemente sì, sebbene bisogna dire che il direttore Vittorio Viale aveva messo in salvo in diversi castelli e luoghi remoti dalla città la maggior parte della collezione della GAM di allora. Ma le opere troppo grandi, come la tela di Andrea Gastaldi, oppure le sculture, per esempio, di Ximenez, sono state lasciate indietro per forza e quindi esse sono state gravemente distrutte. È una mostra che racconta la storia della galleria da quando è stata bombardata nel 1942 nella vecchia sede del padiglione Calderini, ridotto insomma a dei ruderi. E poi, dopo la guerra, la decisione della città di Torino di ricostruire un museo è di farlo attraverso un concorso, un concorso che viene reso pubblico nel 1951 e che decreta come vincitori due giovanissimi architetti. È un concorso naturalmente anonimo e quindi possono vincere due trentenni di Ferrara, Carlo Bassi e Goffredo Boschetti, che quindi iniziano appunto a costruire questo edificio. La mostra racconta questa storia, naturalmente lo fa attraverso dipinti, opere e sculture che sono state acquistate proprio in quegli anni, quindi dal 1948 al 1959 e poi ancora, e quindi accompagna il visitatore in questa storia attraverso la presenza delle opere.